salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui di nuovo con ufc4 il nostro mimo bam bam esposito pronto per esordire in ufc allora allora andiamo a vedere un attimino poi ragazzi ho visto un attimino le varie cose da sbloccare ecco qui natan costa 21 vittorie quella sconfitta pareggio cos'è quella centrale non saprei ma è molto pericolosa questa cosa visto che ha 21 vittorie sta di fatto che noi accettiamo settimane all'incontro facciamo sempre tre non dobbiamo arrivare troppo stanchi ma soprattutto adesso vi faccio vedere anche una cosa che prima avevamo tralasciato tra virgolette adesso rivedendola effettivamente conviene farlo i vantaggi possiamo sbloccare dei vantaggi con le stelline almeno 10 adesso lo facciamo dopo aver magari fatto un primo allenamento pugni da superman vedete ad esempio qua c'è questo qui è inutile che facciamo i pugni da superman visto che non li abbiamo ancora sbloccati anche se ci da 5 stelline gomitate gomitate facciamo questo facciamo questo non ha paura di nessuno ottimo hai visto mimmo facciamo questo qua come allenamento per quanto vabbè le ginocchiate non le usiamo tantissimo ma ci sta direzione opposta rispetto per inter ma scusa che ok ok ma non mi dovevo allenare nelle ginocchiate tipo così vai mimmo boom madonna mia mimmo dai dai rialzati sacchete ea patam bam 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 mimmo esposito boom tacco punta tacco punta tacco punta mimo tac madonna questo è ancora più forte di quello di prima comunque veramente prepotente mimmo ci piace ci piace questo colpetto così di violenza ora ora abbiamo un po di stelline quindi possiamo andare a sbloccare uno dei vantaggi che ho intravisto che potrebbe esserci utile perché noi andiamo molto di pugno quindi al momento due tra l'altro ne possiamo mettere di vantaggi quindi diamo un'occhiatina perché potrebbe essere una buona cosa evoluzione del combattente dicevamo noi qui stavamo al momento livellando anche queste però c'è anche la possibilità di andare ad aggiungere come detto le mosse come abbiamo visto l'altra volta gancio principale livello 2 per arrivare al livello 3 vabbè lo dobbiamo sbloccare comunque dobbiamo sbloccare piano piano queste mentre per quanto riguarda i vantaggi adesso abbiamo questi due slot quindi possiamo andare a mettere questo qua mi sembra molto buono per noi perché ganci montanti e pugni discendenti sono più veloci e più precisi la velocità è ottima quello sarebbe il primo consumano meno resistenza se in movimento le coperture sono più efficaci gli attacchi subiti sono meno efficaci se hai meno salute del tuo avversario ok tra un round e l'altro rialzarsi da terra risulta più facile i colpi consumano meno resistenza durante il terzo e quarto e quinto round ok parata ok gli attacchi subiti sono meno efficaci allora vediamo tutto quello che c'è utile allora anche i calci rotanti potrebbero essere eh ce ne sono tanti eh questo è più per la lotta ok allora come detto prima di tutto io andrei con questo dei pugni ragazzi che è quello che usiamo di più e poi 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 ne possiamo sbloccare ancora un altro le schivate oppure anche i calci noi aspetta il calcio che facciamo però ah no qua non abbiamo già più punti vabbè aspettiamo allora per le altre qua eh per sbloccare questi altri vantaggi dobbiamo aspettare ok per il momento va bene così andiamoci a fare un panoramica sui possibili inviti vediamo chi ci dà il super punch pugno girato principale il jab da superman falciatore pugno da superman oddio sai non mi ricordo qual era pugno discendente ginocchiata gomitata rotante calcio frontale al corpo ma posso vedere un attimino un anteprima cioè tipo no proprio niente ok per i calci invece ginocchiata al corpo calcio alle gambe obliquo vediamo che ci danno questi che abbiamo a disposizione calcio appunto interrogati ma mi fai vedere com'è un'anteprimina no e allora aspettiamo ragazzi aspettiamo ancora un po' perché quello che ci interessa a noi alla fine è penso che sia questo qua pugno la superman quindi questi facciamo che ce li teniamo stiamo tranquilli andiamo a sparare un po' di clamore eventualmente possiamo fare con una promozione easy da da 10 così ci facciamo anche uno sparring pugni da superman il fatto è che se io aggiorno le sfide vedi toglie quello a sesta dei montanti non è che ci toglie le altre a sesta dei colpi da guardia piena proviamo questo lotta libera transizione in clinch a sesta dei colpi da guardia piena non so cosa intenda ma adesso proviamo quanto ce lo diranno metti in guardia piena in posizione dominante a sesta un colpo qualsiasi a sesta dei colpi da guardia piena niente ragazzi non so cosa sia la guardia piena abbiate pazienza sono andato a vedere pure delle impostazioni ma tra mille mila cose sarà una banalata ma non non lo so non sono riuscito a farlo perché non so cosa sia la guardia piena molto bene molto bene troppe cose troppe cose vabbè va all'altra settimana va anche se avevamo cinque punti però ce li teniamo perché adesso andiamo a fare un po' di sparring oh questo mo ci dà dei montanti molto bene questi già ci intrigano di più a sesta dei montanti va bene è tante cose da ricordarsi che poi mi perdo quindi devi stare molto 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 calmo è però fallo dura questo perché io sto a sesta dei montanti ma non vorrei che non arrivasse alla fine dai dai ne devi un'altra e due aia devi stare molto calmo ah prendi il montante attento al montante montante oppela hai sentito il montante eh eh ma che vuoi fare sta attento i montanti sono pericolosi grande mimo grande mimo vai così ora cerchiamo di accumulare un sacco di stelline anche sia per i vantaggi ma anche per livellare le mosse che ce ne servono veramente tanti di quelli ora 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 andiamo a vedere un po' di clamore promozione prevedere scrivi sui social guarda io andrei quasi a prevedere l'incontro perdetto sottomissione knockout al al secondo round così azzardiamo eh abbiamo ancora 30 puntini andiamo a vedere un filmatino che poi si filmatini non è che li vediamo però guarda il filmato nel training camp per imparare informazioni generali facciamo così poi immagino che training camp va la settimana seguente ok ci sarà un modo immagino anche per vedere questi filmati ma ci guarderemo allora a livello di forma ci siamo a livello di forma ci siamo abbiamo 100 punti possiamo ancora fare un po' di allenamento transizioni allora queste facciamo che ci famo il sacco va 2 4 6 oddio sono pure poche però 5 2 4 6 vabbè se sta 10 combinazioni da 3 colpi che includono un gancio no quando facciamo così ricordiamo che spendiamo 10 punti 15 combinazioni 2 colpi che includono un calcio frontale al corpo la sesta combinazione 3 colpi che includono un calcio no troppe combinazioni possono fare una cosa più easy 3 combinazioni 4 gomitate diretti e questo già è più fattibile le combinazioni siamo perché siamo un po' troppo lenti quindi vabbè dobbiamo fare così perché stiamo con questa guardia quindi facciamo velocemente così di gomitata in bocca e via ok vai mimmo vai mimmo veloce veloce che dobbiamo fare cose di finezza di finezza guardalo lì mimmo come agisce e la hai visto come è aggressivo mimmo guarda come aggira l'avversario come va di tacco punta tacco punta boom mimmo style mimmo style sulla tibia guarda mimmo com'è violento com'è violento bravo mimmo bravo mimmo potevi fare un po' di meglio ma ci sta siamo persi qualcosina per strada ma tutto sommato è accettabile quindi continuiamo e andiamo a vedere perché adesso con le stelline forse riuscirò a sbloccare un altro vantaggio prima di fare l'incontro che non sarebbe male 23 ne abbiamo ce sta ce sta allora evoluzione combattente vantaggi allora 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 avevamo visto che c'era giochiato il comitato pure usata meno resistenza nelle prese no vabbè calci rotanti il nostro è un calcio rotante quello lì scusate fatemi vedere un attimo il calcio che facciamo noi il calcio circolare no in realtà no il nostro aspetta che sta eh no stava sotto stava sotto ci ho chiato al corpo l'avevamo messo molto più in basso ricordiamoci questo qua calcio alternato in salto ok va bene quello con il calcio alternato in salto ci rientra e alternati si anche in salto onesto va bene va bene ebbè si al momento sono le mosse che utilizziamo di più quindi onestamente ci stanno ci stanno aumentiamo un po' il clamore cosa possiamo fare sponsorizzazione firma un contratto della serie aspetta questo non l'avevo visto la firma di una sponsorizzazione consentirà al tuo compatente di ricevere più promozione e quindi di alimentare il camo per incontro le sponsorizzazioni ti garantiscono inoltre un bonus in denaro dopo ogni incontro sostenitore ah questo mica l'avevo visto 5 a settimana questo è quello che è contratto per 5 incontri attivo non ce ne abbiamo aumenta il clamore per incontro 2000 in denaro di sponsorizzazione per incontro aumenta il clamore per incontro 2000 la stessa cosa 5 a settimana consuma oddio ci può pure stare guarda facciamo così questo è quello attivo di sponsor e freddi spaghetti vabbè scusate ci sta 50% di tutte le promozioni disponibili altrimenti rischi di perdere la sponsorizzazione eh beh onesto freddi spaghetti signori è è il migliore è il migliore non potevamo chiedere di più non potevamo chiedere di più andiamo a vedere se c'è qualche qualcuno che sta a fare furbo qua allora sarò crudele ma non ho problemi a rispondere a Mimmo fra i dilettanti quando combattiamo di rispedire Mimmo fra i dilettanti andrà come speri ma sono felice ad affrontarti nel mio debutto non vedo l'ora di iniziare l'allenamento ok qua magari ce lo possiamo rifare un po' amico dai ci sta perché comunque poi li possiamo chiamare per farci cioè ci aiutano durante gli allenamenti quindi insomma è meglio secondo me avere rapporti anche buoni con gli altri allora ricordiamo che abbiamo scommesso sul sul knockout al secondo round quindi signori dai con Mimmo Style Mimmo Style prepotentemente sponsorizzato da da un ristorante tipicamente italiano ma lascia fare lascia fare è tutto come ci pensi il nostro Mimmo piano piano acchiapperà grandi sponsor siamo partiti un po' così Esposito contro Costa dai è così pesi massimi vedi adesso con l'UFC già le presentazioni sono più più sportiveggianti io in realtà ho disattivato la musica per copyright eccetera perché se no pure Mimmo c'aveva la sua canzoncina no fammi vede Mimmo no possiamo scegliere eccolo qui ma perché ha quei pantaloncini no ma devono usare quelli ufficiali quando andiamo nell'UFC ma no ma ditemelo prima e boom boom eh fino a quando non si arriva all'UFC signori non è non si hanno grandi no troppo lontano Mimmo allora secondo me conviene rintronarlo un attimo con i ganci di Mimmo anche se si protegge bene quest'uomo ma non abbastanza boom 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 madonna mia qua li abbiamo fatto male eh 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 ahia no levate levate madonna mia Mimmo mamma mia Mimmo che fisichino eravamo 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 stati pure meno ottimisti di quello che potevamo essere cioè al primo round l'ha rintronato di brut guarda là quello con la telecamera se l'è goduta tutta è arrivato un pezzo di naso probabilmente del nostro avversario grande esordio per Mimmo grande Mimmo Esposito Time boom Mimmo boom boom Esposito fa sognare il pubblico dai Mimmo grande così grandi emozioni per Mimmo grandi emozioni per Mimmo bella lì bella lì allora in realtà un po' troppo easy da quello che mi aspettavo mi aspettavo un po' più di difficoltà ma da lontano Adrian Cronin ha visto tutto ha fatto anche una stories e qui intanto ci fanno ogni tanto ci spammano pure quelli che sono i top player i top lottatori ma prima o poi anche Mimmo metterà quella cintura forse un po' più larga la dovranno fare ma prima o poi sarà anche sulla panza di Mimmo boom boom esposito dai lo vogliamo sportiveggiante cazzuto e cattivo ole pesi medi vince per aver detto ok non abbiamo fatto in tempo a vedere tutto congratulazioni a Mimmo grazie cari grazie cari fammi vedere ma posso leggere ah no così posso mandare ma non credo che qualcuno sfiderà Mimmo tanto presto quella vittoria hai visto botta dalla distanza comunque signori quinta vittoria per il nostro Mimmo bam bam esposito e dobbiamo andare poi a sceglierci magari anche dei pantaloncini per quanto riguarda l'UFC perché a sto punto vestiario parte inferiore però scusa cioè io voglio questi se vado qui in UFC a parte lo stile abbastanza taccopunta no questi aderenti fanno per Mimmo ok però io poi comunque voglio tornare con i miei cioè nel senso vedi ci toglie quelli ma io questi voglio cioè non c'è niente da fare poi magari mettimi quelli là parte superiore non so se posso sbloccare qualcosa maniche lunghe ma che maniche lunghe Mimmo deve mostrare il fisico ma che che maniche lunghe che maniche lunghe purtroppo non abbiamo la possibilità di sbloccare cose fighe perché io in realtà volevo aspetta che è questa coppola c'è sta ah no ok eh ma mi togli il capello di Mimmo io volevo mettere il catenaccio a Mimmo però purtroppo non non possiamo non possiamo lo dobbiamo sbloccare in qualche modo comunque ragazzi a questo punto direi di salutarci qui con questo episodio di UFC 4 come sempre lasciate like condividete per supportare il nostro Mimmo serie e canale seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione altro sito per live secondo canale dove trovate tante altre cosine interessanti noi ci vediamo alla prossima con il nostro lottatore preferito un saluto a tutti da quel taleale ciao a tutti i nostri spettori un saluto a tutti i nostri spettori a tutti i nostri spettori